Oggi a Markowa, in Polonia, sono stati beatificati i martiri Giuseppe e Vittoria Ulma con i loro sette figli, bambini. Un'intera famiglia sterminata dai nazisti il 24 marzo del 1944 per aver dato rifugio a alcuni ebrei che erano perseguitati. All'odio e alla violenza che caratterizzarono quel tempo, essi oppossero l'amore evangelico. Questa famiglia polacca, che rappresentò un raggio di luce nell'oscurità della Seconda Guerra Mondiale, sia per noi tutti un modello da imitare nello sancio del bene, nel servizio di chi è nel bisogno. Un applauso a questa famiglia di piatti.